Educazione alimentare, conoscere l'ambiente, vivere il territorio, uno stile di vita virtuoso. A tutto questo sono stati educati i ragazzi che hanno partecipato a Racuia, al campo della Croce Rossa. Sono iniziative che, come tante vissute a quest'età, lasciano il segno, tutti insieme, in campeggio, per condividere esperienze di vita. Abbiamo deciso di partecipare a questo bando, indetto appunto da Croce Rossa italiana, con sponsor in questo anno, la Nivea, proprio con l'intento di riportare i bambini a una condizione di natura e soprattutto riconnetterli ad alcuni temi fondamentali, quali gli stili di vita sano, l'alimentazione, lo sport, che hanno un ruolo fondamentale nella quotidianità. E per farlo abbiamo pensato proprio di creare questo ambiente favorevole, quindi in un campeggio, creando gruppo e affrontando, sia in maniera giocosa, ma anche in maniera seria e riflessiva, appunto temi fondamentali, quali questi. I bambini da dove provengono? Allora, diciamo, abbiamo un'area molto ampia. I più lontani provengono da Scigli, in provincia di Ragusa, Marsala, ma anche Palermo, e anche, diciamo, paesi limitrofi, qui vicino Sinagra, Capodorlando, Brolo. Abbiamo accolto subito con piacere l'invito della Croce Rossa Tireno Nebro di poter fare questo campus estivo a Racuia. È un modo anche per far scoprire a questi ragazzi che vengono da tutta la Sicilia le bellezze del nostro territorio, farli vivere a contatto con la natura. Si stanno organizzando, hanno fatto tante escursioni sul territorio, quindi per noi è sicuramente un motivo di orgoglio. Ci sono altre attività di volontariato, anche attività per riscoprire il territorio? Sì, assolutamente, stiamo lavorando molto sotto questo aspetto. Anche il campo estivo che abbiamo organizzato, stiamo organizzando come comune con i ragazzi, prevede le escursioni sul territorio, la reggia Trazzera, il parco eolico, la visita alle aziende agricole del territorio, le fattorie didattiche. Quindi è un territorio che offre molto da questo punto di vista e soprattutto per i ragazzi è importante affinché possano scoprire le bellezze del territorio e anche le origini del nostro territorio.